Dall'espelienza del panificio Ripani, Vizi e Sfizzi compie 25 anni, dolci, caffè, pizza e pane sfornati con maestria da Silvano e serviti con gentilezza e cortesia da Sabrina e dal suo staff. Vizi e Sfizzi vi aspetta nel centralissimo bar di Corso Cefalonia a Fermo e nel laboratorio panificio Caffetteria di Porto San Giorgio in via Andrea Costa. Da Vizi e Sfizzi potrete trovare una gran valietà di panettoni artigianali classici o al cioccolato, all'arancia, pere e noci, frutti di bosco e ancora il tronchetto di Natale guarnito con ingredienti naturali, i tradizionali pizza di ficchi e frustingu. 25 anni di bontà e genuinità, Vizi e Sfizzi vi augura buone feste!